La banca della provincia di Macerata è una realtà solida, destinata a crescere e far crescere il territorio, le imprese, la gente. Buonasera, dopo aver detto velocemente che nel recente summit di Bruxelles i leaders europei hanno tentato un difficile accordo sull'allentamento dell'austerity e sulla destinazione quindi di maggior risorse verso la ripresa economica. Dopo aver detto questo passiamo ai problemi di casa nostra e parliamo quindi di aste, di banche e di stretta creditizia rapidamente perché il tempo a nostra disposizione è molto limitato, erano molto attese le aste di metà settimana sui titoli del debito pubblico italiano dopo il declassamento del rating del debito sovrano appunto nazionale da parte di Fitch dopo la chiusura della borsa di venerdì scorso il declassamento dal A- a BBB+, e quindi attesa per la risposta dei mercati, diciamo che le aste sono andate discretamente, l'Italia ha collocato oltre 14 miliardi e mezzo di titoli fra botte a un anno, BTP a tre anni, BTP a 15 anni, anche GCT in Euro con una domanda discreta anche se non sovradimensionata come nelle precedenti aste e con però rendimenti in ascesa, d'altra parte non si poteva pensare al contrario in una situazione politica così confusa e anche lo spread ovviamente è salito ed si è quasi livellato all'altezza di quello spagnolo fino a qualche tempo fa ben più alto, ben più pesante. Ecco, debbo ricordare che nelle quattro aste fatte dopo le elezioni di febbraio l'aumento della remunerazione dei titoli collocati ha comportato per l'Italia un maggior onere da servizio, quindi maggiori interessi per circa 75 milioni di Euro. Stanno uscendo anche i bilanci 2012 delle banche italiane, non sono ovviamente purtroppo bilanci molto brillanti, questo lo si sapeva per due ragioni, la prima il minor gettito proveniente dalla intermediazione del denaro anche se compensato da una maggiore attività di trading e di servizi e dall'altro la decisione della Banca d'Italia di rendere più rigide le regole delle sofferenze pensate che fra il gennaio 2013 e il gennaio 2012 le sofferenze delle banche italiane sono aumentate di circa 20 miliardi e di qui anche la necessità di aumentare i fondi di rettifica che poi sono stati influenzati anche da un'altra decisione, questa più che decisione una moral suasion della Banca d'Italia appunto dell'istituto centrale ed è stata quella di applicare il prezzo di realizzo alla valutazione dei beni in garanzia delle banche a fronte dei propri prestiti, dei beni immobili ovviamente, quindi tagliando il valore di mercato di circa un 20-25%. E' chiaro che in questo contesto la stretta creditizia non poteva certo essere allentata, anzi dato gennaio 2013, gennaio 2012, quindi un anno, i prestiti erogati alle famiglie sono calati di circa l'1% e nello stesso periodo quelli erogati alle imprese sono calati del meno 2,8%, quindi più di quanto non sia diminuito il PIL che come sapete è sceso intorno al meno 2,4,2,5 2012 sulle 2011. E' chiaro che in questo quadro la situazione dell'imprenditoria italiana è sempre più difficile, ricordiamo molti fallimenti, 104 mila aziende chiuse nelle 2012, aumento di protesti di circa il 10% in un anno, addirittura del 45% se andiamo più indietro nella storia, nel percorso di questi protesti appunto, e poi una cosa non importantissima ma significativa perché toglie futuro, a mio avviso, alle imprese italiane, cioè che il 20% delle start up, cioè le neo imprese si è trasferito dall'Italia, soprattutto negli Stati Uniti d'America, ricordiamo che le start up contengono know-how, contengono creatività perché fatte normalmente da giovani, contengono futuro, contengono anche i DNA di una crescita, ma per il 20% stanno abbandonando l'Italia. Allora io che posso concludere se non dire, a mia considerazione personale, i politici dovrebbero sbrigarsi a risolvere il problema della ingovernabilità del nostro Paese perché veramente la speculazione è proprio dietro l'angolo. Adesso sentiamo cosa ne pensa un ospite importante della nostra trasmissione questa sera, il dottor Roberto Chientaroli che è il capo finanza della banca della provincia di Macerata che ti sta ascoltando dalla sala operativa. Ciao Roberto, buonasera, grazie del tuo intervento. Buonasera a te. Ecco, chiedevo Roberto, la borsa mi pare è stata una settimana piuttosto deludente, salvo ieri, oggi una ulteriore flessione, penso che sia così il tuo diagramma. Sì, una settimana debole e soprattutto per quanto riguarda le obbligazioni d'Italia abbastanza sottile anche negli scambi. Per quanto riguarda la borsa italiana, ieri giornata di ricoperture, oggi diciamo complessivamente deludente, anche se per la verità ci sono degli spunti interessanti. Per esempio, tanto per dirne una, c'è un bel più 10% circa messo a segno dalla Banca Popolare dell'Emilia Romagna per una serie di più positive che sono state rilasciate da alcuni analisti, anche se poi verso il finale è un pochino ritracciato. Io ti ringrazio Roberto, grazie della tua collaborazione, della tua presenza. Buonasera, ora chiudiamo con un servizio raccolto, un'intervista molto interessante raccolta dalla nostra Stefania Rossetti che ha avuto davanti alle telecamere un imprenditore importante come il dottor Giovanni Paggiolati, amministratore dell'omonimo gruppo che opera nel settore delle elettropompe submarine e che, a titolare di questo gruppo, dicevo di Sforza Costa, che è primario nel mondo, sicuramente in Italia, nel mondo con un'azienda che ha in controtendenza, che ha una forte vocazione, come sentirete, all'esportazione con oltre 80 paesi che formano il suo fatturato e che vive una situazione di tranquillità in un mondo, come avete sentito, molto convulso, ricco di fibrillazioni economiche e politiche. Ora, e poi sentirete un parere molto netto del dottor Faggiolati sulle banche e poi lo commenteremo nelle prossime trasmissioni. Grazie, buonasera, arrivederci. Produce elettropompe sommergibili, sistemi di miscelazione e areazione. Il gruppo Faggiolati PAMS SPA è tra le mosche bianche nel panorama economico nazionale. Con i 16 milioni di euro di fatturato nel 2012, l'azienda ha portato a casa un più 4,75%, confermando la propria leadership nel mercato nazionale e internazionale. Faggiolati PAMS esporta in 82 paesi al mondo, Germania, Inghilterra, Francia e i paesi del Medio Oriente in primis. Occupando in totale 118 dipendenti e creando un indotto che conta 90 terzisti, tutti rigorosamente marchigiani. La produzione viene realizzata nello stabilimento di Macerata. È un'azienda che sta bene, anzi sta benissimo in questo momento. Lavoriamo in pieno e investiamo in continuazione e siamo abbastanza soddisfatti, anche se intorno vediamo che la situazione non è proprio così tranquilla. Qual è la situazione dell'economia italiana? Purtroppo da dieci anni, quando il mondo del credito ha deciso di investire sui titoli, sulle borse, sulla finanza creativa, non investendo più sulle aziende, questo è il risultato. Praticamente le aziende sono tutte sottocopitalizzate, nessuno ha lo stimolo di andare incontro dei rischi, perché vediamo che la situazione bancaria non appoggia le aziende, ma è appoggiato a altri tipi di speculazioni per fare dei profitti e questo è il risultato, è inevitabile. Io l'avevo già capito dal 2007 che il vento stava cambiando e abbiamo fatto dei forti ristringimenti per quello che riguarda i rapporti con gli istituti di credito, ma oggi ci lavoriamo pochissimo e ne siamo estremamente felici perché non siamo banca dipendenti, questo è fondamentale per un'azienda. Quali sono i problemi che riscontra nel mercato italiano? È la conseguenza di quello che ho detto poco fa, per cui è fondamentale che venga curata l'economia reale, basta, basta, basta con l'economia finanziaria, che non serve a niente, solo a arricchire quattro scemotti che preme il computer e specula notte, giorno e sono quasi tutti psicopatici, non voglio fare polemiche, o meno, però l'utile fatto con estrema semplicità non penso che sia anche una soddisfazione per chi lo fa, poi ognuno siamo diversi. Come vede il futuro dell'economia? Sono convinto, tanto abbiamo subito in ribasso, tanti problemi, la curva è andata sotto, ma siamo ormai vicini alla crescita e alla salita e credo che ci saranno 20 anni di assoluta ripresa. La banca della provincia di Macerata è una realtà solida, destinata a crescere e far crescere il territorio, le imprese, la gente.